questa stagione ciclistica è stata troppo breve a causa del coronavirus quindi andiamo avanti e domenica 18 ottobre beach cycling organizza una nuova sfida il challenge baracchi il challenge baracchi è un omaggio alla gara italiana dimenticata del trofeo baracchi una gara cronometro a due persone con una lunghezza di oltre 100 km una gara con grandi nomi nella lista delle vittorie fausto coppi eddie merckx e francesco moser la challenge baracchi è una sfida individuale di 150 km una sfida definitiva in cui bisogna essere forti ma anche intelligenti il percorso si sviluppa su un terreno estremamente misto con colline ghiaia ciotoli sabbia e forse anche del fango sulla strada troverai comunque un point di vita pronto ad accoglierti con delle bevande del cibo caldo quasi dimenticavo lungo il percorso troverai un traghetto che in meno di 15 minuti ti porterà dall'altra parte della sponda deciderete voi il luogo e l'orario della partenza ma ogni partecipante percorrerà lo stesso tracciato nello stesso giorno nella stessa direzione una volta completato vi farete un selfie e caricherete il proprio giro sul comune taggando beat nella vostra attività non importa quanto tu sia veloce la challenge baracchi è un'avventura che tu non vuoi perderti sia che tu voglia vincere o sia che tu voglia goderti una semplice giornata noturna iscriviti ora a beat cycling club puntocom grazie a tutti Grazie a tutti.